Bene, bene, ecco il signor Mulo Haven ed il suo stimato ospite. Lei deve essere James Pearson del COO. Josef mi ha detto tutto della sua visita. Ne so abbastanza su di lei per rispedirla in Germania. Josef, saresti così gentile da lasciare che il signor Pearson e io facciamo la chiacchiera per me. Ok, caro signore, so cosa sta facendo e non mi piace. Caro signor Pearson, lei non ha alcuna idea di cosa io stia facendo. Lei è, come dite voi, del tutto fuori di testa. Per come la vedo io, quello fuori di testa è lei. Se ci fossero i suoi scagnozzi le cose sarebbero un po' diverse. Ma adesso sono io che ho in mano tutta la vita. In qualche modo siamo partiti col piede sbagliato. Guardi, mi dispiace a me, non siamo così diversi, lei e io, deve credere. Io non le somiglio affatto. Forse. Ma cerchiamo tutti e due la stessa cosa, no? Io cerco solo di restituire alla mia patria ciò che ne appartiene. Preferisco farlo così, nel modo più diplomatico possibile, senza conflitto. L'incidente della soffitta è stato un terribile errore. Noi cercavamo soltanto la chiave dell'acqua. Chiave? Che chiave? Sembra proprio una croce di ferro, non le pare? È un simbolo di onore militare nel mio paese. Beh, aggiungerò alla lista delle accuse anche quella di intraccio alle indagini federali. Credo sia ora di andarcene senza testa. Non ho proprio intenzione di andare. Non facciamo la scelta. Sta girando la fortuna, eh, vecchio mio? Non avrei mai creduto di vederla in un posto sciccoso come questo. Ha conosciuto il mio canesco? No, ma... Nessun male deve assolutamente conoscere. Sono sicuro che le farà piacere conoscere anche le signore. Un giovane scapolo come lei dovrà gestire. Elio, voglio presentarti Jim Pearson. È il giovanotto di cui ti stavo parlando. Quello che darà modo al COI di reggersi sulle sue gambe. Piacere di conoscerla, Jim. Piacere mio. La prego, mi chiami. Oh, non se ne può andare senza salutare le signore. Jim, che penserà? Salve. Salve. È un piacere conoscerla. Mi dispiace, devo scappare. Non sia sciocco, Jim, è appena arrivato. Cercherò di tornare più tardi. È proprio uno strano tipo, quello. Che c'è qui dietro? Zona privata, signore. Non è aperto stasera. Ho appena visto qualcuno entrarci. L'amico di Mufaven, il tedesco. Questa è buona. E cosa fa la spia che in caso? C'è qualcosa di interessante per una spia? Ho sorvegliato questa porta tutta la notte. Non c'è nessuno. È entrato mentre lei parlava con Mufaven laggiù. Sta forse insinuando che non faccio bene il mio lavoro. Ma certo che ha fatto un ottimo lavoro sorvegliando quella porta. Non si è mossa dai cardini per tutta la notte. Sono sicuro che c'è un uomo lì dietro e devo raggiungerlo. Cosa? Se non sparisci, amico, ti dico io cosa farò. Ti sbatto fuori a calci in culo. Potrebbe proprio essere mio. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Buonasera signore e signori e benvenuti alla prima di gala del Nido del Corvo. Spero che abbiate gradito i festeggiamenti di questa sera. Ma che diavolo? Cosa sta succedendo? Aprite questa porta. Aprite questa porta. Su, insieme. Pronti. Cosa state facendo qui dietro? Che succede qui? Abbiamo preso questo tipo che sconfinava. Non dovrebbero farlo i burocrati? Decideremo dopo. Chiami una pattuglia. Va bene, ci faccio un po' di spazio qui. Andiamo, signori. Questi sono affari ufficiali. Andiamo, sgombriamo. Andiamo, sgombriamo. 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 E finine. Memory. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.